Lo scorso anno in provincia di Arezzo sono nate 1.819 nuove imprese rispetto alle 1.627 dell'anno precedente con una crescita dell'11,8%, mentre le cessazioni, che erano state 1.758 alla fine del 2020, anno della prima ondata della pandemia, sono scese a 1.529 con una contrazione dell'11,5%. Nel 2021, quindi, in provincia di Arezzo, secondo i dati del registro delle imprese e della Camera di Commercio, sono presenti 36.962 sedi di impresa. Se a queste si aggiungono le unità locali, il dato complessivo è di oltre 45.000 unità. I dati relativi alla demografia imprenditoriale, afferma il presidente dell'ente camerale Massimo Guasconi, confermano il miglioramento delle prospettive dell'economia provinciale. E' sicuramente positivo il dato sulla creazione di nuove imprese dopo la frenata imposta dal lockdown, ma non abbiamo recuperato il dato pre-pandemia, mantenendo un gap di 114 aperture in meno rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'andamento occupazionale, afferma invece il segretario generale dell'ente Marco Randellini, le localizzazioni di impresa presenti nel territorio hanno fatto registrare una crescita di 1.770 occupati, pari all'1,5% in più. Si è infatti passati da 115.624 persone che hanno un lavoro nel 2020 a 117.394 nel 2021.